Sono arrivati tanti centrocampisti in questa sessore di mercato, c'è tanta concorrenza, però Ventura sia in partita sia in allenamento, ti ha spesso preferito a tanti tuoi compagni come se tu fossi già un intoccabile, sia nel 5-3-2 che nel 4-3-3 che avete provato oggi. È così o sono un'impressione? No, non penso che dopo dieci giorni ci sono già gli intoccabili. Sono nuovo, vuole farmi capire i movimenti sia in fase offensiva che in fase difensiva, però penso che sta facendo partecipare tutti. Poi magari sta un po' di più con me, con i nuovi per farci capire, perché speriamo tutti che il gioco di Mr. Ventura è un gioco particolare e non si impara subito in dieci giorni. Mi sto inserendo ogni giorno un po' meglio, come l'altra volta quando ho fatto la presentazione stavo inserendo, adesso ancora di più, comincio a scherzare, a ridere. All'inizio è normale che è un po' difficile fare queste cose, sto prendendo un po' più fiducia con il gruppo e ogni giorno mi sento meglio qua. All'inizio è normale che facciamo un po' di fatica, però il mister ogni giorno fa un po' di tattica e ci insegna come muoversi. Ovvio che dopo i primi giorni adesso ho capito molto di più, però la strada è ancora lunga.